Oh, eccoci! Salve ragazzi, tutto bene? Come va? Che si dice? Siamo... Si è stabilizzato? Ma no, stai calma! Devi stare calma! Ok? Va bene? Si è stabilizzato? Bene, bene. Ok, ok, eccoci qua. Situation, situation. Abbiamo narrazione qua. Abbiamo la campagna principale. Presumo. Sì, non mi ricordo più nulla. Livello arcano massimo. Abbiamo tutto al massimo, figurate. Situazione, un giorno fa, un giorno fa, ok. Wolverine, ok. Daie, per favore, eh? Grazie. Non cominciamo. Comunque, ragazzi, mi hanno spoilerato... Google, Google, colpa tua. Mi hanno... Mi ha spoilerato il finale di Midnight Suns. Mi ha fatto leggermente incalchiare, raga. Eh, però... Però, eh? Io mo' sto giocando perché... In realtà volevo dare uno stop per fare un miglioramento di prestazione per il 4K a roba simile, ma a quanto pare no. Sì, volevo stoppare un po'. Ho detto, guarda, non voglio fare Midnight Suns, voglio fare qualcos'altro. Ho scoperto lo spoiler e loro ho detto, sa che faccio? Finiamolo perché veramente mi ha fatto incavolare. Tanto ormai con la situazione siamo a posto. Uh, cos'è? X-Men! Gli incredibili X-Men! Wolverine, Osus, vedo un sacco di personaggi. Night... 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 Night Chlor? Night Chlor? No, Chlor. Night Chlor. Non mi ricordo il suo nome. Ah, noi li chiamiamo gli incredibili X-Men e in realtà non sono da Incredibili X-Men. Sono da Incani X-Men. Ah. Ci sono rimasto colpito. Oh, figo. Eh, vabbè, non abbiamo credi per prenderlo. Oh. Holt tore out the bridges. Roads are gone. No evac happening. We'll get you additional air support. We can fly people out. That's a negative. Our orders have changed. We're taking a more aggressive stance to secure the country. Secure? You mean you're taking on the Hulk? Roger that. Our squad is moving into position now. No, I told Fury not to launch an assault on Hulk. They're gonna get slow. Listen, Agent, whatever. This is Tony Stark. You have to call off your assault immediately. The dark forces within Banner are only growing stronger with time. Those men are doomed. We're now in attack position. We just don't have a visual on the target. Laying down a perimeter. I'm telling you, get out of there. Wait. This movement above... The Hulk! Oh, God, no! Bravi. Come suicidarsi, praticamente. Imbecilli. Man, Earth so bad right now, not even Galactus would eat us. Or maybe we lure Galactus here, so Earth might give him a fatal case of cosmic food poisoning. Allora, io voglio fare una cosa. In eroe. Caro, posso personalizzarti e metterti la skin? Ah, non la puoi mettere. Non glielo puoi mettere. Cioè, perché se scambio skin... Ma scusami, aspetto. Ok, ma... Scusami. Non posso più metterti la cosa eroe? Scusami. E l'impostazione aversa di combattimento. Perché non me lo dà? Ah, perché con lui non si può fare... Con lui non si può fare... Con quella skin. Comunque con Dr. Strange sì, però. Ah, perché giustamente ci sta la versione... E poi dove stai ad avere il mantello? Vabbè. Vabbè, non che cambia molto, eh. Iron Man può rimanere con l'armatura addosso? No, ero sicuro di sì. No, che palle. Però tu sì, però. Tu puoi avere la versione costume. Ah, vedi che lei sì, invece. Ah, lei sì. Ok. Allora, facciamo giornalmente. Però te lo mettiamo così. Così, cambio. Versione da combattimento giornalmente. Così. Eh, però potrebbe avere questa. Che non mi piace, però. Vabbè, facciamo così e no. Ok. Meglio. Se non manca che mi cambia in continuazione. Però vorrei avere tutto il costume... No, a sto punto no. Evitiamo. Se volevo vedere se avevo qualche altra skin avevo preso. Ok. Te puoi avere la skin. Perché tanto che non cambia niente. Cioè, chi è l'armatura, chi meno. Ok, ok, ho capito. Vabbè, te non cambi nulla, vabbè. Ok, ok, no, niente. Solo Spider-Man ci... Cioè, Spider può avere la tuta. È l'unico che può avere la tuta e tutta immascherata. Tranne qualcun altro. Ghost Rider, vabbè, è uno spirito. Quindi, ok. Blade può anche avere la skin da... Ok, vabbè. Vabbè, Spider-Man c'è sta che può... Vediamo che succede. Vabbè, quando la gente non ascoltano a me. Vabbè, quando la gente non ascoltano a me. E le buone persone dieci perché di questo. Vabbè... 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 Spazio profondo. Citazione di Planet Hulk, raga. Di prenderle e buttare su un altro pianeta. Su una galassia. Ovvio che le tue idee sono ancora buone. Sì, però, per favore, parti, eh. Comunque, ragazzi, ho scoperto il finale, ve l'ho detto, di Midnight Suns. E picco apparente, sì. Non vi dico nulla. Però mi farò delle teorie dopo. Vabbè... Vabbè, questo lo sa benissimo. Vabbè... Vabbè... Bene, ok. Quindi... Tutti qua... Fury è andata a me e MJ a una locazione. Mmh... Allora, noi teoricamente, come vi ho detto la volta scorsa... Vabbè, abbiamo poche e nulla... Ah, Magic... Ah, sei andata a mare, in piscina. Così, bella e buona. Chi è che sta qui, piuttosto? Due riposo. Quella sta in piscina, beata lei. Quando sta là... Posso fare qualcosa, almeno? Terapia intensiva... Oh, a chi? Con chi? Con chi? Con chi? Con chi? Cinque? No. Non me le tiene adesso, tre. Voglio qualcun altro. Eh, devo potenziare tutti. Vedi, anche il spider già l'ho fatto. L'ho già quasi. Ehm... Te. Andiamo. Bella, nuova posa, figo. Eh, a dopo. Se magari posso muovermi... Grazie. No, il bot... Bugle non me le tiene. Fammi vedere cosa dice. Ok. Ah, un giorno fa. Ah, sì, quello degli incontri. Me lo ricordo, ok. Adesso vediamo un po' situation. Ah, possiamo fare una missione... Maddo, dice. Missione storia. Ce la facciamo la missione storia? Così andiamo un po' avanti con la lore? Ci servono pure un po' di crediti. Non credo, però vediamo. No, come si è finita. No, come si è finita. Hey, potrei provare a fastballare tutti gli satteliti Stark nel cielo, oltre una volta prima, sorta Perché guardo gli occhi? Che ansia! Quando la risposta è davvero 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 di fronte di te. Buona entranza. Ehi, è la ragazza! Agatha. Sei tu? È questo? Cosa sta succedendo qui? Ssshh, sta arrivando alla buona parte. La più potente creature sull'Earth non è su Mount Wundergore. È la regia di Wundergore. E è l'ora di andare a casa. Ehm, Hulk. Non ho fatto con Doctor Strange perché con Doctor Strange ci avrebbe fatto un culo così. Ehm... Wanda. Perché Wanda ci avrebbe leggermente massacrato. Quindi va bene Magic. Però in questo caso voglio Iron Man. Se dobbiamo purificare Hulk... Voglio Iron Man perché voglio che si sente... D'aiuto per aver salvato Hulk. Ehm, cara Nerina non devi scocciare quando gioco adesso eh. Vai! Ehm, come back home again. I thought this was supposed to feel warm and fuzzy. Unfortunately, your old home has got some intruders. Stay strong. I know how hard this will be for you. For me? Same goes for you, Hunter. You may find the Hulk is not like you... I know how to handle him. Don't you worry. Wanda Gore, here we come. There's Hulk and Hydra and your mother. It'll be an interesting reunion. Our time flies when you're having fun. Right champ? Ok, oeeh. Maronna, come fa così. Allora? Siamo pronti? Grazie. Uè Nerina. Dai. Bravissimo. Guarda come è brava a saltare lei ogni tanto. Bravissima. Lei adora nascondersi sotto lì. Così. Bell'epoca. Io voglio liberare tutti i personaggi a livello 5 perché così sblocco la skin Midnight Sun. Obbligatoriamente. Poi non so se ci sono altre sfide che sbloccono anche altre skin. Eh, attenzione. Ho visto che molta gente non hanno fatto molte sfide e missioni. Quindi vuol dire che c'è una possibilità che... Non hanno tutti... Non hanno tutti i costumi. La gente non ha tutti i cosplay. I costumi dei personaggi. Poi non lo so che con... Non lo so che facciamo. Non c'è nulla. 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 Ma no Quanto si ciua Tanerina Solo un secondo Intanto qua Deve caricare Tanerina Il coso sta Aspetta Intanto entriamo Tanto lo so Che ci metterà Tempo a caricare No Nerina Vuoi stare tranquillo Eh Hai a dormire Per tutto il tempo Quando ho fatto le live Ma ora che devo registrare Anche mi devi rompere Vabbè rompere no Poverina Vuole sempre coccole lei Ehm Fammi prendere un altro tappo Sì perché io sto per tutti i tappi Perché lei si diverte con i tappi E' fissata con i tappi lei Ecco Reapertoglio un po' di Acqua Bella Ok Basta Comunque Se riusciamo a liberare Già Hulk qui Tanta roba Non lo so No dai ti prego Che entrata di festa Impossibile You know how much I dislike that word Now you see why Daughter of Transeer At last you return home Surrender your pain to me And I will make you whole once more My Pain Yes Mother You can have it all Ah 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 Bella questa Oh Mi stai dicendo veramente Mi stai dicendo veramente che Uh Che cosa mi stai dicendo Sblocchiamo Hulk Tanta roba C'è un problema Abbiamo le Vabbè Però tu metti lei Mi metti un pesante Un tank Che protegge lei E mi metti Hulk Di cosa mi stai parlando Ma cosa mi stai dicendo Aspetta è più forte di tutti E ho notato Che usa tutto il suo potere E ho notato Che usa tutto il suo potere Non è che non l'ho notato Yes Come to me Child Come to me Reality Reality Is only Non ti preoccupare Ho altri obiettivi Contro Che Uovi mi direbbe Perché non colpisci Hulk Raga Lei è quella che romperà le scadole Ve lo dico già Mi sto dicendo Che veramente ho Ok Ok They are still set on me Let's try this I had always heard They were stronger than that I'm going to see I'm going to see Ah il movimento Già c'è fatto Ok Ejik Che ne dici Eh magic Punio Scarlet Volevo dire You know That's not enough Hmm Ok Iron Man Iron Man Non ci sta tutto Però Dobbiamo Madonna 999 Quello Però ci sono tolti la madre Ragazzi Il più fastidioso Ok C'è anche lui Che rompe le scatole Stordirà Tantissimo Stordirà Ok 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 Però mi hai tolto il tuo stordimento Grazie Però Specificamente Iron Man Rinforzi Vabbè Una cosa inutile Praticamente La hai tolto La hai tolto Yeah And you're ugly Too I fail her Your loyalty To the mother Of demons Will be your undoing Ok Sto pensando Raga Ok Dimmi che lo stordisce Dimmi che lo stordisce Vulnerabilità È qualcosa Però ha aumentato la rabbia E questo non va bene Comunque pure io Sono stupido Però Non per cattiveri Sì perché Il mio errore Che sto usando Il personaggio sbagliato Per farlo incazzare Ok Ok che ho Soltto invunerabilità Però ho sbagliato Con Con Wanda Ecco Che ho Madonna Dove l'ha pigliata Fatto male È Hulk Che tosta Abbattere Lesione I due cani Posso anche Lasciar stare E io devo Togliermi di mezzo Il pezzo grosso Raga Dove Vuoi Una La trasformazione Doctore Come uno Di Fallen È Veramente Terrificante Io Togliermi Per Confer Non 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 Eh lo so Lesione Ok Aia E ho capito Bella Levati Perché tanto È gratis Eh vabbè Dai Era un colpetto No No cavolo Mi ha fregato Vabbè Non è detto Ritorna No No perché Madonna Perché mi fa lo schermo intero e mi porta il mouse dall'altra parte Dai Dai Stabilizzati Già è un problema Mose mi metti pure così È un casino Cioè mi ha arrivato il mouse dall'altra parte Dai Eh appunto No No mi arrabbio perché il mouse è finito là Perché mi è finito lo schermo dall'altra parte Ma Ma tengo lo schermo Scusatemi ma io lo schermo quindi impostato con Ha 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 ce l'ho fatta Ok Cosiddetta amicizia è finita lol Io ho fatto Vabbè ha lo scudo per questo Gli ho permesso Perché poi avevo il contrattacco La tolta scudo Accuma pure vita Eh Quello Ok Rinforzi Intanto lo so che arriva un cane Perfetto Si ho capito che prende di milioni Riusciamo a fregarlo Si si lo so Lo voglio fare subito Ah ma Ce la faremo Ce la faremo e come No che ripescaggio va bene così Ne ho già due Ne ho già due abbastanza Ci togliamo di mezzo il cagnolino Ah ora mi dici più Ah ora mi dici più carte Ottimo Rimaniamo un attimo così Forza in arrivo Si ripiglia Sto imbecile Sì sì Abbiamo già abbastanza carte Sì lo so che ti sei ripreso Mi è piaciuto come l'ha detto No smash Ecco qui Poi Devo farne quattro Devo farne quattro Contro Perfetto Ah 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 Vedete Guarda Che giocata Subito Devo curarmi però Perché Si toglie troppa vita Eh A posto Eh Oh Iron Man Che ne dici di Mezzo Quei due per cuore Grande Ma stiamo a zero Questo può essere un problema Chi prendo di mira Hulk si è ripreso Dobbiamo cercare Il modo di Hulk Non fai di fare In vulnerabilità Ok Hanno preso di mira Lei che non do Assolutamente Ho un ultro tentativo Ragazzi Uno direbbe come Un ultro tentativo Eh guardate qua Un ultro tentativo Ok Inflige 2600 Inflige Suo prossimo turno Sul suo prossimo turno Ok Ok Ma dai Mi aspettavo che Ero sicuro Ragazzi Che ce la facesse Ho sbagliato Si è fatto male Madonna Che botta Che si è fatto Oh lei si è parata Gli altri due Si sono pigliati Bella Da virgolette Bella Un cavolo Eh Lo so Ok Non vedo di Mira lei Curati Per favore Come puoi essere Vulnerabile Io questo Non capisco Ecco Mi serve qualcosa Che curi Eh questo No Togiti Basta Bellissimo Lo voglio Peccato Peccato che E' imbunerabile Ragazzi Ho sbagliato In realtà No però Oh cavolo E' imbunerabile Cioè praticamente A parte che abbiamo fatto Una cavolata Che lui ci può attaccare Con il pugno in alto E ci farebbe Un po' di stragi Ora vediamo Intanto sto facendo Una cosa Che con Con il livello 5 Sapete cosa può uscire Onda d'urto Bella E' vero Ci ha fatto Gua Se ci ha fatto One shot One kill A tutti Madonna Brutto Riprendetevi tutti Madonna Abbiamo sbagliato Dovamo distanziarci Dovamo distanziarci Ho sbagliato io Ho sbagliato io Con Hulk Ci ha fatto Bravo Bravo Molto intelligente Molto sveglio Molto sveglio Azzo Ci ha tolto molto meno Di quanto pensassi Ah perché l'ho indebolito E mo mi ha fatto Molto male Ragazzi devo rianimare Per forza Lei Ok nel merino Ho capito però Ci tocca Però Non è finita Voglio fare una cosa Ti controllato la mente Che posso Mena qualcuno a caso Così perdi il potere Uno Ma perché non riesco Stordito 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 Non voglio te Voglio cambiare carta Oh eccoci qua Ho sbagliato Ho sbagliato perché In realtà Da Stordito È un cazzo stordito Bello Ok Eh beh ovvio Oddio A pedo di mira a chi Ok Fatto male Ma come faccia A rimuovere il suo Coso Scusami Non ho capito Sconfigge Un corrotto Che Rimane Ok Usa basta Per sconfiggere Allora avevo capito Bene Avevo capito E Allora ho capito Avevo capito Di usare basta Perché è una bella Che ne dici Di darti fastidio Però Veramente mi stai dicendo Lo devo fare per forza Come Madonna Che tutta cosa E poi è stato voluto E poi è stato voluto Aia Lo dovevo fare per forza Dai ripigliate Però c'è pure da dire Che avevo sbloccato Io quell'apilità Che avevo sbloccato Oh Voi 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 C'è te Ego Subterabris Domon Domini Precepta No! 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 Questo è il motivo che Sarah ha così alto pressione di sangue! Assurata che sei ok? Ma io sarò. E' così. Ho preso Hulk. Abbiamo salvato Hulk. Abbiamo un tank in squadra adesso. Tanta roba. Mamma mia. È ora di fare un po' di amicizia con lui. Tanta roba. Sono contento! Perché sento una musica a palla fuori casa mia? Oh ragazzi. Eh vabbè è uno, ma non è che è stato facile. Oh che bello. Io sono contento per Iron Man. Perché Iron Man ha collaborato per salvare Bruce Banner. Sì perché rispetto a Dottor Strange che aveva detto che è un peccato che è rimasto qui a guardare e non ha intervenuto. Stavolta invece ha detto no, Iron Man si sente troppo in colpa. Ma molto. Rispetto a Dottor Strange che non lo dimostrava. Iron Man voleva tutti i costi in squadra. Che poi è stato pure d'aiuto. Molto. Perché l'abbiamo abbattuto pure in un secondo momento. Bello. 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 Mi è piaciuto. Però il basta è esagerato eh. Il basta ha niente. One shot to one kill avversario proprio. Infatti non capivo perché non riuscivo a batterlo. Perché non lo leggevo sopra da me a fianco che diceva di usare il basta. Io l'avevo dato per scontato di usarlo. Cioè manco leggerlo. Quindi. Lo devo fare per forza. Bene. Sono contento. Abbiamo salvato anche Hulk Bruce Banner. Adesso si che è lì. Teni guai. Cioè non ha più nessuno con cui tenersi a disposizione. In squadra. Cioè. Venom è stato sconfitto ed è scappato al di là che è indemoniato o meno. Vabbè. Cyberdutt l'abbiamo sconfitto. Hulk l'abbiamo. L'abbiamo. O come insieme a Scarlet l'abbiamo purificato. Lilith si è rimasta da sola. Palisone si è rimasta da sola. Tanta roba. Ora si che Lilith è fregata. Cioè. Sono curioso come va avanti la narrazione adesso. Ma credo che abbia quasi finito il gioco. Lo sapete. Secondo me. Sotto sotto secondo me l'abbiamo finita. Hulk lo possiamo usare in poche missioni. Tranne missioni. Diciamo. Non della campagna. Mh. Ok. Quindi sono due parti. Parte 1 e parte 2. Cioè la parte 2 è lunghissima rispetto alla parte 1. Che era una sottospecie di introduzione. Mi aspettavo di più. O forse è la mia impressione. Non lo so. Il mio giudizio. Mi aspettavo. Ma. Dai parti. Che sono curioso da vedere la cinematica. Noi lo vediamo con i pantaloni tutto cosi bello a terra che lo stiamo portando in spalla. in pratica, sicuro o lo stiamo tenendo così per braccia così sono curioso, voglio vedere la cinematica perché abbiamo messo anche Iron Man in squadra quindi vediamo come si evolve la cinematica adesso questo sì, grazie volevo vedere ah, ok che succede? voglio vedere ecco uh, eccoci qua sono sicuro che Ileana o Nico sarebbero meno gentili sicuramente non senti Blade ahah, allora allora parla con custode parla con Blade, pure di cosa stanno parlando? cosa? che è successo? sta bevendo birre ed è un briaca mi sono perso oh, ho sbagliato non sto parlando, non sto parlando per una scuola scuola non sto parlando con la mia e potete riusciare il cervello e portare il tornare tu duele si matarono oggi ho detto che tutto sarebbe meglio quando Wanda era tornato è infatti brava si non ti. Ti dimenticare in magia per portare il tuo amico. Tu dovresti essere commendato. Si, sai cosa? Io prendo quello. Non ho mai pensato che vivi per vedere il giorno. È solo... In realtà stiamo iniziando a sentire come una famiglia vera. Potremmo una famiglia abbastanza disfunctuale con molti problemi per lavorare, ma è ancora una famiglia. Questo fa di toni estremi i tuoi pazzi. No. Per me sei una famiglia, Nico. Eh, grazie. Ok. 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 Che cosa stai facendo ancora parlare con me? Wanda necessariamente necessita la tua attenzione. Sei sicuro? Si. Ho Cap per mantenermi in compagnia. Buono parlare con te, Nico. Tu anche, Hunter. Pagliateci sulla macchina. Tu lo riservi. Andiamo. Allora. 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 Voglio fare una tosta. A Wanda. Che non solo mette Lilith in suo posto, ma ha portato il nostro amico, Dr. Banner. Non mi sembra di parlare con lui. Si, però posso parlar. Si, però posso parlar. No possiamo salvare il mondo senza te. Tu Wanda. Tu Wanda. Tu Wanda. Tu Wanda. And the next generation of heroes who've so graciously hosted us. The Midnight Suns. There's hope for the future as long as people like you are fighting for it. A Safa. Beh, stanno bevendo. And trust me. I know we've got a long way to go before we can call it a night. But right now, I want to let you know how proud I am to be serving alongside you and watching your leadership. Tanta roba. Si, sto contento per Capitan America. Datemi un secondo.